E neppure la prevenzione epidemiologica sul coronavirus ferma i progetti europei dell'Istituto Tecnico Cattaneo di San Mignato. Nonostante appunto il fermo di tutte le attività esterne, come anche i viaggi di istruzione, come decretato dalle istituzioni sanitarie, la scuola non si è persa d'animo e ha risolto grazie alla tecnologia. È successo, come vediamo, ai partecipanti del progetto Erasmus Plus K2 Inspire, coordinati dai docenti Gabriella Salerno e Chiara Bisori, i quali dovevano partire per la Grecia ma sono stati costretti a restare con le valigie a terra. Sono stati organizzati dunque due incontri via Skype e così, anche se soltanto online, i ragazzi hanno potuto partecipare ad alcune attività e presentare i lavori svolti. Tra queste anche un'interessante attività di ricerca storica sugli anni 50 e 60, ricostruita dalle interviste agli anziani della casa di riposo del Campana Guazzesi appunto di San Mignato.